Vai amici! Siamo pronti per il combattimento! E siamo prontissimi! It's ok? It's ok mica tanto. E Delfa, vieni un attimo qua, ti devo dire una cosa. Un attimo, eh? Just a moment, eh, Battista, un attimo. Oh, Delfa. Qua c'è? Oh, questo è grosso, qua bisogna fare qualcosa, io scappo, eh. Ce l'ho io il trucchetto. Ah, ce l'ho io, vabbè. Non male, ce ne vorrebbero due o tre di trucchetti. Aspetta, guarda. Dai, 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 ecco con la pompa, adesso mi allunghi, dai, fammi diventare alto, 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 eh. Dai, vai, vai, dai, alto, 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 dai. Ancora più grande, sono altissimo. E là, Gamipo, come sei grande. Sono bello, sono bello grossa, eh. Guarda mia, sei altissimo. Vieni, Battista, I want you. Dai, Battista, dai, vatti sotto, dai, vatti sotto. Ed eccolo, The Animal, via la maglietta. È tutto pronto, Ciccio. Via la maglietta. Guardala ancora, si prepara. Via la maglietta, via. È pronta la grande sfida. Eccolo, vuole il pubblico, vuole il pubblico. Vai con la terza corda. Mitragliatrice per l'animale, Ciccio, pallice su, pallice su, pallice su, pallice su. E poi, la sentenza, pallice giù. Battista, pompa, in arrivo, punto. Uno, uno solo, secco, e giù. Ed è il facconto. Il campione Battista, amico, vai. Bene, ringraziamo Battista. E mi raccomando, vi ricordo, tutte le domeniche su Italia 1, Matt Down, con il grande campione Battista e i miei amici. E' il campione Battista, amico, vai.